La Nazionale Italiana di Nuoto Paralimpico ha scelto ancora una volta ostia per la preparazione di un evento internazionale di rilievo. Gli azzurri si sono ritrovati al polo natatorio in vista dei prossimi campionati mondiali paralimpici, che si svolgeranno dal 9 al 15 settembre presso l'Aquatic Center di Londra, il prestigioso impianto che nel 2012 ospitò le gare dei giochi olimpici tanto dei normodotati che dei diversamente abili. Agli ordini del commissario tecnico Riccardo Vernole e di tutto il suo staff, 22 atleti, 12 maschi e 10 femmine. Il collegiale, della durata di 8 giorni, rappresenta per i selezionati un indispensabile momento di confronto per definire al meglio il percorso di preparazione alla manifestazione. I mondiali di Londra, infatti, hanno un'ulteriore valenza, in quanto, oltre ad assegnare i titoli ridati, rilasceranno il pass di qualificazione alle Olimpiadi di Diochio 2020. I ragazzi stanno lavorando bene, ha detto il CT Riccardo Vernole, e non nascondo che puntiamo ad entrare tra le prime cinque nazioni del medagliere. Speriamo che Ostia, così come è accaduto in passato, ci porti in questo senso ancora fortuna. La Nazionale, infatti, lo scorso anno preparò sempre al polo natatorio gli europei di Dublino e dalla rassegna continentale l'Italia ottenne 29 ori, 23 argenti e 22 bronzi, finendo in classifica con 74 podi al secondo posto dietro l'Ucraina.